Argomento delle ultime settimane a Teramo, la questione dei passi carrabili, della COSAP, dei pagamenti. Proprio la scorsa settimana il sindaco ha precisato che molto probabilmente rivedrà il regolamento che dovrà essere attuato. Con buona pace anche di Manola Di Pasquale che ne aveva parlato. Adesso in questi giorni dovrebbe anche portare probabilmente le firme davanti al difensore civico. Sì, diciamo noi l'avevamo già detto l'anno scorso, siamo di fronte a un vero e proprio pastrocchio, a un incrocio tra COSAP, TOSAP e Codice della Strada. Questa cosa ha determinato confusione dei cittadini e soprattutto c'è ingannevolezza perché ciò che sembra essere dovuto forse in molti casi non è dovuto e sicuramente per noi non lo è per i passi in raso. Avevamo anche in una prima fase ottenuto una prima vittoria per quanto riguarda le modalità di accesso, quindi avevamo superato il problema di avere le firme dei tecnici sulle domande. In una seconda fase avevamo concordato in una trasmissione televisiva con l'assessore di Sabatino l'apertura di un tavolo dove tutte queste nostre perplessità potevano essere esposte, però l'assessore ha ritenuto non opportuno evidentemente, nonostante le avesse promesso, aprire questo tavolo di concertazione per quanto riguarda l'applicazione di questa concessione comunale. L'assessore di Sabatino dice che comunque prima del 2012 non potrà essere cambiata. Diciamo sotto profilo tecno ha ragione perché questa COSAP viene istituita dal Libro del Consiglio Comunale. Questa del Libro del Consiglio Comunale vince sia per l'anno scorso che per quest'anno. Ora però la cosa che noi abbiamo introdotto è questa, è la lecità della richiesta di tutti coloro che hanno un accesso all'obbligo della domanda per la COSAP. Noi riteniamo che non sia un obbligo la domanda per la COSAP, quindi c'è una differenziazione da fare e bisogna rifare chiarezza. E quindi noi chiediamo oggi al Sindaco, che mi pare sia tornato un po' indietro rispetto a questa tematica, la proroga fino al 31-12 e nel frattempo di emanare una circolare che chiarischi questi aspetti.